Vai, fai uscire la tua anima. No, in questo momento non mi viene niente, perché c'è il blocco della... Del lato creativo? Sì, no, sai quando c'è l'esame? No, non è un esame, è esattamente l'opposto. Io la vedo sempre così. Esattamente l'opposto. Allora, albero. Albero? No, ti giuro, non mi viene nulla. Ok, ok. Va bene, ti uscirà più tardi. Speriamo. E niente. Così, poi, vabbè, divarico. Divarica. E poi ti metti giù. Scendi. Perfetto, scendi giù col bacino. Scendi con il bacino, perfetto. Ok. Sì, sì, ci sono. Ok, da questa posizione in cui sei rilassata. Sì. Fai una cosa che non hai mai fatto finora. Tu sei una creativa, lo so che sei una creativa, me l'hai detto a tavola. Per cui, adesso rilassati e fai uscire qualcosa che non hai fatto finora. Ma anche questa va bene. Che questa cosa qui non è mai uscita. Mi viene da sedermi con le gambe all'otto e basta in questo momento. Ok, ok. Va bene. Allora, in questo modo.